Un evento eccezionale, una nevicata che da anni non si vedeva a Canicati, forse un record della più intensa con 30 centimetri di neve e al di là dell'aspetto folcloristico e suggestivo del paesaggio imbiancato, i disagi sono quelli che si sono registrati maggiormente in città e nei comuni dell'entroterra. Auto impantanate, bloccate dalla neve, famiglie rimaste isolate e dunque in gravi difficoltà nelle zone d'aperta campagna. Sulla strada statale 640 circa 300 persone sono rimaste al freddo e in gravi condizioni dalle 15.30 alle 22.30, provando ripetutamente a chiamare i soccorsi e l'ANAS. In tilt il centralino dell'ANAS e dei vigili del fuoco. Soltanto alle 22.30 nei pressi di Racalmuto è arrivata una pattuglia della polizia stradale e grazie ad un bobcat privato è stato possibile liberare la carreggiata stradale e far ripartire le oltre 100 vetture incolonnate. Fra Canicattì, Racalmuto e Grotte sono gravi i disagi. A tendere ai cittadini una mano d'aiuto ci sono stati i vigili del fuoco di Agrigento e dei vari distaccamenti che dopo aver liberato le auto rimaste bloccate a Canicattì e Racalmuto hanno aiutato due famiglie che incontrate a montagna a Canicattì sono rimaste isolate. Disaggi anche a Borgalino dove questa mattina sono arrivati i mezzi spargisale. Polemiche per l'improvvisazione e per l'incapacità mostrata dall'amministrazione comunale di Canicattì nell'approntare un piano di emergenza e di protezione civile. Singoli interventi di molti cittadini di buona volontà ma è mancata una regia comunale, un coordinamento con una cabina tecnica per gestire la straordinaria ondata di maltempo che tra l'altro è stata ampiamente annunciata e anticipata dai meteorologi. Quindi non doveva essere una sorpresa. Adesso non nevica da nessuna parte, nemmeno su Monte Cammarata. Nuove bufere sono però previste nella giornata di oggi nella zona montana dell'Agrigentino. Il consiglio categorico delle forze dell'ordine è di restare a casa e di uscire soltanto se estremamente necessario. Sulla statale 189 dall'altezza del bivio di Cammarata verso le Carafriddi si transita soltanto con catene montate. La neve si è ormai trasformata in ghiaccio che è molto più pericoloso. Nel centro urbano di Cammarata e San Giovanni Gemini la coltre bianca ha superato il mezzo metro d'altezza. Sulla provinciale fra Cammarata e Stanto Stefano di Quisquina è stato invece abbondantemente superato il metro. Catene rigorosamente montate a partire da Canichetti verso Serra di Falco e Caltanissetta. Proprio nel tratto di confine fra Grigento e Caltanissetta, a partire dal pomeriggio di ieri e per tutta la nottata, per quasi 11 ore, sono rimaste bloccate decine di otto vetture che si erano avvantate.